Tu non sei! Perché mi fai passare? Ah! Faccio me stesso! Il signore! Devo seguirlo! Sono passati sette lunghi anni. Senti, ho 48 ore per portare quel tizio dentro, se no sono fottuto! Vuoi che venga con te per ancora 48 ore? Reggi, te lo giuro, te lo prometto, questa volta andrà diversamente. Eddie Murphy e Nick Nolte sono ritornati. Lascia che mi spieghi, io non lavorerò per te, perché non mi piace e non mi fido. Ma fa un culo! Bentornato, Reggi. Stanno recuperando il tempo perduto. Hai la stessa macchina? Sì, e gli stessi vestiti. Non mi piace così, io mi ci affeziono alle cose, Reggi. Ancora 48 ore. Ah, sei tu nei guai con la legge questa volta? Bene! Eddi Murphy, Nick Nolte. Ah, ho sempre desiderato un autista, Reggi. Ancora 48 ore. Run, man! Un'altra cosa! You don't have to put on a red light! Un'altra cosa! Un'altra cosa!